La musica in alcune situazioni non ha assolutamente senso dall'inizio alla fine e in altre situazioni è come se stiamo mettendo un disco rotto dall'inizio alla fine. Non c'è un cambio, non c'è neanche il motivo per il quale cambino i DJ. Mettono 10 DJ in console che suonano tutti la stessa musica. Ciao a tutti, sono Mario Porcella aka Rollo4, benvenuti in questo primo episodio di Lato B. In questo format andremo ad intervistare tutti i DJ che hanno preso parte ad Only Vinyl Podcast che trovate disponibile su YouTube, sul mio canale e tutti quelli che poi ne faranno parte in futuro. Ospite di questa prima puntata ho l'onore di presentarvi Damiano Lamonaca. Grazie per aver partecipato e aver regalato la disponibilità di partecipare a questo nuovo format. Grazie a te. Salvataci un po' da dove vieni e com'è nata la tua passione per il DJing? Nasco a Barletta e ho vissuto sempre a Barletta. Quindi diciamo la mia città è Barletta. Ho intrapreso questo percorso semplicemente perché amante della musica elettronica ho frequentato i club sin da piccolo. Sedici anni e mezzo sono entrato nella prima discotica commerciale e poi pian piano con un po' diciamo di cultura che è come dire la cultura del club non è una cosa che si legge sui libri ho cominciato a capire qual era il mio sound e poi ho frequentato solo realtà underground. La cosa che mi ha portato a suonare invece o ad approcciarmi a questo percorso è stata senza offesa per nessuno la cattiva musica che stava un po' circondando il mondo del club. Cioè tutto quello che era diventato troppo come dire commerciale. Il discorso che tu ti sei approcciato a Freddie Jay era perché eri stanco di questo discorso commerciale quindi volevi un po' portare anche la tua musica, la tua idea. Le mie storie hanno comunque sempre qualcosa di comico. Io non sono un grande sportivo. L'unico sport che comunque mi è sempre piaciuto fare è quello che è proprio lo sport dove io sono libero è il pattinaggio sui roller. Quando io pattino ascolto musica. Siccome sul web mi rendevo conto che la musica non mi piaceva tanto ho cominciato grazie ad un amico ad affacciarmi a questo mondo dove mi ha insegnato a capire cos'è la musica in realtà suonata, mixata cioè quei DJ set che noi ascoltiamo. Oggi ascolto un DJ set. La mia formazione, chiamiamola così, quello che io ho vissuto mi ha portato a vedere solane dei DJ che suonavano con i dischi. Io nasco da quell'epoca. Vedevo solo giradischi, solo un'infinità di borse che si portavano i DJ per suonare 3-4 ore. Quindi il mio mindset era quello. Con l'avvento poi diciamo del digitale mi rendevo conto che tutta questa quest'anima, questa passione per quello che si faceva stava venendo meno. E si percepisce soprattutto nel DJ set. Mi dava fastidio. Non riuscivo più a trovare un DJ set di un artista che comunque mi poteva essere piacere. E quindi questo mio amico ha detto senti la musica non è tutto uguale se vuoi io ti insegno a capire come si struttura un DJ set come si mixa quello lì da sostanzialmente come si mixa così magari tu domani anziché ascoltare quello che non ti piace mixi quello che ti piace. Quello che piace a te. E quindi la base è stata quella. Guarda, un fede, un partitiano, due dischi però alla fine il mio approccio è stato con il trattore. Ok, perché mi ricordo che tu avevi cominciato in digitale poi ti sei sposato in un secondo momento sui dischi, in vinili. Esatto, non avendo conoscenza alcuna cioè non sapevo proprio come fare da dove si parte per realizzare La base diciamo proprio del DJ Assolutamente, sì 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 e quindi questo mio amico ha cominciato a farmi vedere così. Ovviamente quando si fa, si parte chi ti deve insegnare? Ti insegna con gli strumenti che ha a disposizione. Cioè io non sapendo nulla se lui mi avesse detto che per registrare un DJ set devi mettere il pesciolino nell'acqua io l'avrei messo. Quindi, zero conoscenza. Come ho fatto da farci al minide? Purtroppo qui non sto parlando di meglio o peggio ma sto parlando proprio di una struttura di quello che sostanzialmente è utilizzare un software digitale non è altro che matematica devi capire come è strutturata questa matematica che poi ti permette di suonare più o meno bene. Una volta che hai capito la battuta una volta che hai capito il loco una volta che hai capito che le due linee si devono allineare perfettamente in quel punto così sono a battuta e a tempo dove il tempo non lo devi mettere neanche tu c'è l'automatico alla fine ho capito che io mi annoiavo. Cioè sostanzialmente è questo cioè a prescindere dal fatto che io potessi scaricare un'infinità di musica o comprarla mi annoiavo fisicamente mi annoiavo perché era la macchina che faceva avevi poco lavoro da fare perché faceva tutta la macchina la macchina sì tu alla fine mettevi il loop si un po' schiacciavi i pulsanti si delay i filtri i vari e poi alla fine eri una superstar nella tua cameretta. La cosa che mi ha portato veramente poi a capire qual era la mia strada è stata diciamo come dire quelle piccole commissioni che ti facevano i vari locali allora Damiano oggi vuoi venire a suonare qui però mi raccomando non vuoi suonare la musica che faccia a te devi suonare con la musica oh Damiano vedi vuoi venire qui il budget è di 50 euro perché l'altro ragazzo quello che viene sempre si prende 60 euro e tu non sei come lui cioè allora tutte queste cose qua mi hanno portato a dire senti io devo purtroppo siccome non è il mio mestiere nelle passioni almeno nelle passioni secondo me bisogna essere se stessi non abbassarsi ai luoghi comuni non abbassarsi a quello che piace alla gente ma cercare di capire come possa piacere quello che fai tu agli altri quindi devi trovare la tua identità e le tue strade che considerando la mia età considerando il mio lavoro il mio core business mi permettono poco di vivere quella come dire quella vita dalla parte degli organizzatori dalla parte di chi sta dietro la console di chi realizza gli eventi e quindi non avendo quel tipo di contatti non avendo tempo per fare le riunioni non avendo molto tempo per andare a parlare con i vari promoter o i vari personaggi di punta quindi questa come dire questo mio modo di essere questa mia passione è stato assolutamente personale cioè realizzavo dei piccoli parti con amici e amici di amici dove non venivano per ascoltare quello che a loro piacevano ma grazie anche poi a quelli che erano i miei amici che supportavano l'evento alcuni erano anche DJ noi abbiamo avuto sempre quella piccola come dire audacia di proporre musica quando uno dice diversa la musica ovviamente è diversa in tutto il mondo ci sono milioni di etichette milioni di producer ma quella musica che non deve piacere alla gente ma la gente che comunque ha assistito ai nostri parti era quella che voleva ascoltare qualcosa che non ascoltava di solito in quei luoghi che vanno per la maggiore dove il business uccide l'arte che poi è la diciamo la descrizione se non mi sbaglio fa parte della tua biografia assolutamente considerato che io sono fotografo professionista sono sempre più convinto del fatto che nel momento in cui devi pensare al business devi raggiungere dei compromessi e questi compromessi poi ti portano sempre di più a fare quello che deve funzionare e non a far funzionare quello che invece ti piace è un po' è un po' diversa la cosa e sì è il mio sacrificio della vita infatti penso che diciamo tutti anche i dj che magari saranno in ascolto hanno passato quella fase lì di scendere a compromessi quello che dicevi tu prima la 50 la 60 euro devi suonare questa musica piuttosto che quella sono sempre penso che ogni dj ha passato questa fase certo il dj però io ci tendo a precisare una cosa importante il fatto che io qualche volta riesca a realizzare un dj set fluido o a realizzare un dj set con pochissimi errori o armonioso non vuol dire che io sia dj io non mi ritengo dj perché comunque non vivo di quello allo stesso tempo io ho per fortuna un paragone molto vicino a quello che è il mio lavoro allo stesso tempo non è detto che un amatore non possa essere più bravo di un fotografo professionista però un amatore resta un amatore e un professionista deve capire come portare avanti la propria vita dal duro lavoro che deve fare per come si dice per campare quindi sotto questo punto di vista ci tengo a dire che io non mi ritengo un dj anche se cavalcando la console in quel preciso momento in quella precisa occasione posso ritenere di definirmi in Italia precisiamo questo discorso qui che il dj non è il tuo lavoro principale ma fai altro come il primo business il core business è il wedding photographer che comunque fa sempre parte dell'arte è sempre in quella cerchia sono fortunato io diciamo nella mia vita ho cercato come dire di superare dei limiti quindi non nasco come wedding photographer ma ho fatto come dire tantissima esperienza in più di un fronte posso dire che non sono il top dell'evoluzione ma credo di essere abbastanza evoluto da un punto di vista artistico e anche da un punto di vista di ricerca non mi piace nulla di quello che non faccio ma nel senso ogni volta che produco qualsiasi tipo di lavoro cerco sempre di migliorarmi quindi non è che non mi piace quello che faccio ma devo capire come posso fare a migliorare quello che ho realizzato e di conseguenza questo come dire essere autocritici ti porta ad avere nelle proprie passioni lo stesso tipo di pensiero cioè se io devo suonare devo suonare bene ma ogni volta che ho finito un DJ set io dico madonna mia oggi ho suonato malissimo si sei autocritico nel capire ogni volta ogni volta perché io mi sono ascoltato perché nella mia testa avevo un determinato tipo di sound che poi alla fine non era quello ma fa parte del mio mondo di essere non mi sono mai dato una pacca sulla spada a dire oh bravissimo oggi sono stato bravissimo infatti anche una domanda che volevo farti cioè come parte il tuo processo creativo nella creazione di un set allora io credo che bisogna comunque distinguere due grandi momenti il momento in cui tu comunque ti eserciti il momento in cui tu hai come dire quella fase io la chiamo di autoerotismo mentale dove tu sei nella tua stanza sei da solo ti sei comprato quei dischi che devi provare allora nella fase dell'esercitazione tu puoi esprimerti al meglio perché non c'è nessuno che ti sta ascoltando sia da un punto di vista tecnico e quindi si fanno le varie prove per capire se questa cosa sei capace di farla o no oppure comunque costruisci un set che possa come dire alleviare le tue pine le tue pine certo è inappropriato ma è quello che rende più giustizia a quello che è cioè io con la musica viaggio spesso sono con gli occhi chiusi perché è la mia musica perché non non ho paura che ci sia qualcuno di fronte a me che non possa gradire quindi quella mia forma di autoerotismo mi porta ad avere un sound assolutamente mio personale però se posso utilizzare un termine che mi piace molto è coeso cioè il mio set anche se sto suonando per me stesso non ha mai dieci stili diversi non è pindarico cioè ah cerco di realizzare sempre qualcosa che sia un po' come un concerto di musica classica è un paragone diciamo estremo però sì cioè per me la mia musica deve essere un concerto deve essere collegato ogni disco l'uno all'altro tanto da potermi soddisfare mentalmente è una forma di libertà quale reazione vorresti scaturire negli spettatori se vogliamo chiamarli quando io suono per gli altri diciamo così e non suono per avere la loro approvazione vorrei che chi mi ascolta apprezzi quello che io sto realizzando è che quando si rientra da un qualsiasi party diciamo in un club c'è una cosa che è molto bella se la musica ti è piaciuta tu rientri a casa con quel suono negli orecchie che fa che ha quel disco che ti ha colpito e questa cosa avviene credo solo quando la musica ti ha preso in qualche modo e c'è e c'è quel disco che ti resta nella testa perché tu poi vai a dormire anche quando vai a dormire sempre queste orecchie che pulsano con questo disco che magari può essere stato l'ultimo disco quindi anche la scelta dell'ultimo disco per me è importante io prima di suonare guardo un attimino quello che sta succedendo nella dance floor è scelgo l'ultimo disco io l'ultimo disco l'ho scelto all'inizio del mio DJ set vedo chi sta di fronte sai già come finirlo il DJ set deve finire con quel disco ora come faccio a portare un DJ set che io lo costruisco in una maniera assolutamente non preparata come faccio poi ad arrivare a mettere quell'ultimo disco non te lo posso dire perché entro completamente in un mondo diverso non ho regole non ce le ho non è non devo compiacere nessuno e ho bisogno di esprimermi è proprio uno sfogo e quindi quella è veramente diciamo la cosa più più bella per me quando tu rientri a casa e hai il mio ultimo disco nella testa io ne ho parecchi di tuoi nella testa quando invece preparo come dicevo un DJ set per quando devo suonare la mia la mia preparazione è molto zen chiamiamola così io non sono un tipo calmo però quando devo preparare il disco vengo qui nella mia stanza mi fermo un attimino e incomincio a prendere tre tipologie di dischi diversi ed è l'elettronica quella che io chiamo elettronica che poi racchiude diciamo poi le varie sfaccettature ora la gente ha sempre bisogno di etichettare etichettare qualsiasi cosa per poter far sì che tu quando vieni presentato la gente possa capire già chi ha di fronte questa cosa qua certe volte può essere un bene certe volte può essere un male faccio un esempio ma solo perché mi sono documentato e questa cosa qua è successa proprio a Sanremo dove qualcuno si è autoprogrammato queer queer io ho detto queer questa parola queer che tutti quando gli dicono andiamo a vedere cosa vuol dire per fortuna c'è il google hai googleato ho googleato che dovrebbe essere l'abbreviazione di gender queer o queer gender allora lo dico in entrambi modi così qualcuno è l'abbreviazione cioè qualcuno che è libero e ha trovato un termine per definirsi cioè io sono libero e mi metto in un ghetto io per andare ad ascoltare la techno devo avere lo scotch sui capezzoli io vorrei andare anche con la mia camicetta di seta però è tutto ghettizzato è tutto etichettato la mia musica elettronica ha tante sfaccettature io vorrei non definirla ma so per certo che quella musica elettronica nonostante anche la techno sia elettronica ma strutturata in una maniera diversa so che nella mia testa quella musica elettronica è diversa dalla techno quindi io preparo tre borse la prima borsa elettronica a seconda del tipo di evento in cui devo suonare decido se avere un'elettronica un po' più spinta o un'elettronica un po' più slow poi mi preparo una borsa di techno la mia visione della techno non quella che adesso è la techno cioè qualcuno che associa un tipo di comportamento ad un tipo di musica che definisce techno la techno non è secondo il mio punto di vista un modo di essere o una moda la techno è la musica anche perché diciamo da quando tu sei partito e hai ascoltato molto più techno di noi negli anni non erano ancora cioè la scena techno c'era ma non era ancora il discorso di vestirsi di nero scotch sui capezzo di quello che dicevi tu eccetera la techno c'era potevi andare anche in camicia suonare la techno ma la maggior parte delle volte la techno era libertà la musica era libertà io quando ho cominciato a frequentare quello che veramente mi piaceva erano i dodici ore i dodici ore che erano itineranti che venivano realizzati in dei posti magici con delle persone magiche il dj che suonava non aveva nessun look che lo definiva era libero e la gente che lo ascoltava era libero io posso fare dei nomi che comunque sono per fortuna storici qualcuno è rimasto qualcuno meno cioè quando io ascoltavo faccio un nome x che può prendere un po' tutta la faccia solo per popolarità quando ascoltavo Sven Watt io non sapevo che cosa doveva suonare quindi per me mettere la camicia o mettere la canotta nera non aveva alcun senso perché Sven Watt era un personaggio come lo è ora era solo più giovane eclettico imprevedibile non so cosa vado ad ascoltare so che Sven Watt quando suona mi piace ti faceva dal set di pause alla tecno io lo preferivo io ascoltavo un DJ che ora ovviamente c'è un calo fisiologico di certi personaggi che mi piaceva tantissimo che suonava veramente una musica unica nel suo genere secondo il mio punto di vista che era Flavio Vecchi Flavio Vecchi se ora io lo nome non lo conosce questo mi sfugge Flavio Vecchi era un grande purtroppo aveva diciamo seguiva il flusso del momento ogni personaggio come dire aveva i suoi lati negativi però i suoi set erano fantastici aveva io ti consiglio di andare ad ascoltare devo googlare googlate anche voi poi dopo Flavio Vecchi valla ad ascoltare Flavio Vecchi io lo ascoltavo il sabato sera e poi andavo all'after la domenica ma sembrava suonassero due persone diverse ah dove suonava sempre lui all'after però esattamente erano due stili completamente differenti assolutamente perché il DJ sa come deve suonare la domenica mattina e sa come deve suonare il sabato sera si adatta ad ogni situazione cioè anche quello il lavoro che deve fare cioè deve come dire proporre la propria musica ma non uscire mai dai binari e non lo fa un bravo DJ ora io ascolto delle warm up di DJ che io chiamo quelli che schiacciano i bottoni che partono con un warm up di 140 150 bpm purtroppo si è come è come aver masturbato il cervello ancora prima di fare qualcosa che invece dovrebbe essere quello per il quale io ho pagato cioè io devo ascoltare un DJ ma quello di prima mi ha già spompato quindi ho esigenza di sedermi ho esigenza di bracarmi ho esigenza di drogarmi per resistere fino alla fine quando in realtà non viene consumito più niente ma sono anche e lo devo dire sono gli organizzatori che creano questo misto fritto che non ha più senso la musica in alcune situazioni non ha assolutamente senso dall'inizio alla fine e in altre situazioni è come se stiamo mettendo un disco rotto dall'inizio alla fine non c'è un cambio non c'è neanche il motivo per il quale cambino i DJ mettono 10 DJ in console che suonano tutti la stessa musica non c'è neanche uno stacco da uno all'altro si collegano direttamente non capisci neanche se sta suonando Francesco o Antonio io queste cose ormai alla mia tenera età non le sopporto più quindi preferisco andarmi ad ascoltare qualcuno che abbia senso e se proprio devo pagare qualcuno per andarlo ad ascoltare preferisco che comunque suoni con i dischi collegandoci a questo discorso degli eventi nel frattempo schipetto un po' se non ti dà fastidio tornando al discorso degli eventi tu per un periodo hai comunque organizzato degli eventi quindi volevo capire un po' la tua su questa parte dell'organizzatore invece di essere DJ ok allora faccio sempre un collegamento alla storia io amo le persone non le cose cioè è molto spesso gli oggetti che io utilizzo non rappresentano un oggetto ma rappresentano lo strumento che mi serve per amare quello che faccio cioè il giradischi non è un giradischi non è un oggetto il giradischi è quello strumento che mi permette di essere me stesso in determinate situazioni e di essere me stesso a contatto con gli altri in una come dire sfaccettatura diversa del mio essere cioè non so se sono stato chiaro cioè quando io utilizzo la fotocamera di certo non sto suonando quando io realizzo le mie opere d'arte quelle che comunque possono essere i miei ludi artistici non è che io prendo il giradischi per fare queste fotografie è di certo la mia fotocamera non è quello strumento che fa le foto la foto si sta formando con un rapporto ben preciso tra il soggetto che fotografo e me poi quello strumento è quello strumento che mi permette di realizzare quello che comunque è l'opera la stessa cosa avviene con i giradischi o con il disco cioè non è il disco è quello che rappresenta che io amo e quindi sembra che ami l'oggetto in sé per sé ma non è così quando ho cominciato a realizzare questi eventi piccoli eventi il primo l'ho realizzato nel 2015 e adesso siamo nel 2024 ho smesso nel 2023 questi eventi sono nati per gioco perché di discoteche comunque ce ne sono non avrebbe senso realizzare un evento club ce ne sono non avrebbe senso realizzare un evento quello che invece manca è la libertà la gente si sentiva libera libera di non fare del male a nessuno libera di non criticare chi lo circonda liberi di indossare la camicia o la canotta la libertà era quella che manca e questa autogestione chiamiamola così io per esempio nelle parti non ho mai messo la security perché? perché non ce n'era bisogno ogni persona proteggeva il proprio gruppo e se stesso e si chiedeva scusa e si andava avanti così questa era diciamo l'idea iniziale ovviamente chi mi ha seguito in questo percorso io ci tengo a precisarlo non era mai il personaggio che andava a suonare tutte le sire nei ridi la stessa musica in un lido diverso con un nome diverso dell'evento ma solitamente era la stessa frittata come sta succedendo adesso e stiamo peggiorando purtroppo erano piccoli personaggi o anche grandi personaggi perché ho ospitato anche dei personaggi di non dico calibro mondiale però personaggi di tutto rispetto solo con i dischi il filo conduttore era il vinile che poi in alcuni particolari eventi con particolari personaggi che o era così o era così allora ho messo anche a disposizione dei CDJ ma su tanti anni come dire di di party questi personaggi erano pochissimi molti DJ mettono le virgolette molti DJ non hanno la capacità di suonare con i dischi non sanno non hanno la musica nella testa che li possa accompagnare in questo percorso non è solo una questione di tecnica e di manualità questi CDJ hanno aiutato sicuramente che in caso contrario non avrebbe potuto farlo io dico solo questo cioè non c'è il fatto che tu sei un boomer o tu ti precludi la possibilità di non è questo dico semplicemente che questa cosa aiuta quindi se a certe volte vuoi ospitare questi personaggi che propongono una musica fantastica ma purtroppo a suonare con i dischi non è proprio la loro indole non è nelle loro corde allora tu li puoi suonare con i CDJ ma devono essere casi estremi non il caso estremo deve essere chi suona con il disco tanto da non avere mai una consola appropriata tanto da i due canali di un giradischio non funziona o il mixer su fono non va cioè queste problematiche che invece non dovrebbero esistere considerando che suonare con i dischi è molto più semplice di suonare con i CDJ dal punto di vista tecnico cioè non devi sistemare hai più bisogno di allenare l'orecchio no c'è proprio un tecnico quando deve preparare una console ah sì è facile i giradischi funzionano ce li collego al mixer controllo che non ci sia riverbero ci metto i i distanziali di marmo è finito è questo pensiero che poi ci ha comunato eh sì ora siamo qui proprio per questa diciamo che ha portato a diciamo a registrare due dei tuoi set nel mio podcast perché alla fine anche io no pessimi dovete sapere che Damiano fino a quando non è perfetto il set non c'è una minima svolatura non lo manda quindi io invece sono molto più selvaggio tra virgolette mi piace proprio l'imperfezione perché alla fine il bello del vinile è proprio quello cioè sentire anche l'imperfezione perché un DJ troppo un DJ set troppo perfetto c'è qualcosa sotto che ti puzza dicevo questo party è nato semplicemente perché noi eravamo un gruppo di amici appassionati dei dischi e quindi diciamo c'era questo gruppetto di amici sinceri che ci riunivamo già qui per ascoltare la musica ovviamente Damiano può venire Giulio si fallo venire Giulio si porta Giulia questi party sono nati perché a Capodanno da essere dieci siamo diventati cinquanta tutti in una stanza molto piccola un semplice passaparola diciamo come questo avevo lasciato il portone aperto come unico diciamo problematica da risolvere era che ognuno si portava il ghiaccio da bere per sé ovviamente alla fine della festa pulivo io perché poi quando servono le persone spariscono tutte figurati a un Capodanno alle otto e mezza di mattina questo è stato diciamo l'inizio di questa cosa qua perché poi dopo il Capodanno l'abbiamo fatto alla Befana alla Befana stessa politica ognuno si portò da bere misi un salvadanario vicino alla console perché le persone qualcuno ti diceva quando si paga le dicevo metti un'offerta libera dentro questo salvadanario e di lì riuscì ad avere ben 150 euro che ho utilizzato per fare le pulizie così almeno non pulivo io tanto da pensare la prossima volta anziché fare mettere l'offerta libera chiedo 3 euro così che ogni persona sa che deve pagare 3 euro e viene e hanno pagato questi 3 euro cosa ho fatto con questi soldi ho messo il ghiaccio a disposizione cioè le persone si portarono a bere e poi io ho investito nel ghiaccio e nelle pulizie se non che poi vedi che a posto di 50 persone ne vengono 90 allora ho messo io la chiamo la security ma non faceva altro che evitare che alcuni personaggi un po' improbabili quando dico personaggi improbabili considerando che io non sono razzista sono solamente i violenti i violenti e posso dire che è una conseguenza del razzismo che è omofobico per esempio non può stare con la gente libera perché si creano i violenti lo stesso perché non chiedono mai scusa e sono sempre pronti a fare si sentono superiori a quello che loro non riescono a fare le liste e congedetemi un'accusa bruttissima da dire ma in ogni in ogni situazione esiste perché ormai chi esagera nel come dire chi fa abuso di drughe e alcol si questi personaggi non riescono a stare con altra gente si perde proprio quel senso di pace e di libertà che in realtà dovrebbe essere pian piano ho cominciato ad investire in un dj un guest ho cominciato a mettere qualcuno che anziché farti portare le 100.000 bottiglie che poi era anche pericoloso perché le lasciavano un po' ovunque ho investito in un catering un catering che diciamo potesse aiutarci a bere meglio e ho cercato di migliorare la struttura anche da un punto di vista audio per esempio prima suonavo con due casse passive da 200 watt poi ho comprato quelle da 400 watt poi ci ho messo il sub poi il mixer non era più la lenet ma poi è diventato una lenet di quattro canali cioè ho investito nelle migliorie che potessero rendere più felici le persone non sei partito a bomba ma è stato graduale assolutamente pian piano e poi di lì ho realizzato questi eventi che poi erano diventati una costante ogni due o tre settimane quindi quando riuscivo ad avere sabato sera la domenica mattina libera cercavo di fare questi eventi ovviamente qual era il problema reale il mio lavoro è quello comunque di fotografo quindi io non posso dire a qualcuno non vengo a lavorare perché devo fare serata conciliare un attimo il tutto anche trovando dei partner che potessero farmi stare sereno almeno fino a quando finissi di lavorare e sono andato avanti così per un po' ho smesso di fare party per già la prima volta smisi perché un mio coetaneo DJ quindi prima di questo 2023 si smisi perché lui mi chiese qual è il messaggio che tu vuoi dare e io gli spiegare il messaggio di libertà e lui mi ha detto io non credo che i giovani abbiano capito questo tuo messaggio è stato frainteso è stato frainteso come l'after dove io vengo a devastarmi dove vengo a fare quello che non posso fare in determinati luoghi e ho smesso ho smesso perché la musica che faceva da padrona era una musica che attirava gente che non mi piaceva sempre per il fatto che stava diventando troppo commerciale il sound il sound portava determinate persone che non mi piacevano fino a quando poi non ho ritrovato diciamo una nuova squadra che mi permettesse di realizzare nuovamente quelle che erano le medie ovviamente in tutto questo mentre ci sono state delle organizzazioni che comunque si sono affacciate alle quali ho fatto realizzare dei party che diciamo venivano un attimino comandati da loro dal punto di vista strutturale di relazioni pubbliche e anche a volte come dicevo di artistico come dire dove loro decidivano due artisti su tre però seguivano le mie regole cioè comunque ci doveva essere la security che comunque aveva premura non far entrare tutti che bisognava essere scritta all'associazione che non potevi venire qui con dieci persone e dire non abbiamo altro da fare cioè io non posso essere non abbiamo altro da fare ma se io realizzo un party underground non possono venire le persone che non hanno altro da fare perché al DF non mi hanno fatto entrare perché tu volevi andare al DF ma poi alla fine anche la scelta musicale come hai detto prima induce a far venire quelle persone lì che a te non interessano assolutamente parte tutto alla fine sempre dalla musica ma soprattutto perché poi al di là del business noi paghiamo noi vogliamo il twin set a me non interessa non sei pronto per queste persone non sei pronto per queste persone sudate senza maglia che ti stanno accanto e tu hai la camicia di 200 euro che appena ti toccano vuoi investire in la risa non è il tuo mondo anche perché questo tipo di persone come ti dicevo prima non pensano tanto alle cose magari hanno una canotta di 200 euro che la mettono comunque la sudano la bruciano con le cicche delle sigarette comunque non gli interessa non è la canotta sono lì per divertirsi per essere lì per vivere quel momento di libertà esatto è una cosa completamente diversa che vuoi condividere e ho ripreso a fare questi party considerando queste diciamo queste situazioni che sono state come dire sporadiche per realizzare poi il party che a livello musicale mi ha soddisfatto di più che è I love fucking music music voglio dire ho scelto questa parola francese e non inglese semplicemente per collegarlo a rever che è la struttura fisica cioè l'associazione culturale si chiama rever I love fucking music era un appendice qualcosa che era stata realizzata a livello di movimento in questa struttura fisica I love fucking perché diciamo in inglese significa quello che significa sappiamo tutti è quello diciamo sostanzialmente il mio amore spropositato per questo tipo di musica mi ha portato a realizzare questo party che doveva comunque inizialmente viaggiare su questi canali ho smesso per la seconda volta per perché io ormai sono troppo grande non amo l'opportunismo e l'ipocrisia questa cosa qua mi infastidisce molto nonostante comunque sì è bello chiacchierare con persone più giovani o persone diverse è bello chiacchierare con persone che magari mentalmente sei a fine ma i tuoi diciamo se chi ti sta accanto pensa al business allora non è quello che io voglio ora diciamo questa situazione qua non dà da mangiare non ti dà uno stipendio non puoi vivere di questo se tu pensi che ti devi comprare l'automobile con questi party non lo potrai mai fare se non hai la passione la passione è prima di tutto se poi nella struttura restano 10 euro o 100 euro e la gente stava bene la gente si è divertita a me interessa poco e quindi questo business ha portato come dire il mio modo di essere a bloccare di nuovo tutto ora farò una nuova ricerca e magari qualcosa di nuovo uscirà però questa volta posso garantire proprio per una questione di età avanzata ormai sono vicino alla demenza semile solo in vinile se non sai suonare con i dischi non puoi suonare ci vuole un luogo dove le persone possano capire che la musica che tu ascolti può essere suonata con i dischi e non è vero che quella musica io la possa suonare solo con i DJ assolutamente non è vero perché quegli artisti che suonano quel sound sicuramente li potessi suonare trovare in vinile ma un'altra cosa che invece i giovani non sanno che loro stanno vivendo quello che noi abbiamo già vissuto quella musica che loro ascoltano è stata già scritta forse era stata scritta anche prima della mia epoca ma io ora quando ascolto la musica che loro chiamano la musica non è altro che un disco rotto per me già è stato fatto tutto le persone che sono davvero innovative secondo me sono pochissime e là c'è veramente della ricerca e bisogna togliersi il cappello per tutto il resto trovo questo pensiero abbastanza flat abbastanza piatto del mondo musicale siamo d'accordissimo su questa visione in conclusione volevo chiederti se magari vuoi dare un consiglio a chi ci segue a chi vuole approcciarsi al mondo del DJing cioè se un ragazzino attualmente vuole intraprendere questa strada quale sarebbe il tuo consiglio allora il primo consiglio è che io sono proprio la persona inadatta perdere consigli perdere consigli sì mai chiedermi diciamo consigli anche perché per il tipo di esperienza sono abbastanza polemico l'unica cosa che posso dire è che bisogna capire prima di tutto lo scopo il mondo in cui si vuole essere proiettati se noi capiamo dove vogliamo essere proiettati allora sicuramente possiamo capire quale deve essere il nostro approccio musicale se si vuole essere uno dei tanti o se si vuole comunque realizzare qualcosa di estremamente personale si deve fare questa scelta in funzione di questa scelta io consiglio poi di affacciarsi alla persona più vicino a te che condivida il tuo pensiero questa è l'unica cosa da fare se io conosco Damiano e Damiano suona con i dischi e io voglio suonare con i dischi allora quando Damiano suona con i dischi io cerco di stare vicino e di capire come si fa e magari chiedere in quel caso non il consiglio perché qualcuno pensa che ci sia una legge si deve fare così questo mixaggio si deve fare così è sempre bello esplorare io credo che ci siano sempre la distinzione della della tecnica e di come questa la si utilizzi e delle regole e di come queste vengono infrante cioè in tutto ci sono delle regole in tutto c'è una tecnica ma avere tecnica o conoscere la tecnica non vuol dire essere bravi non vuol dire essere riuscito a fare un bel 17 non vuol dire essere riuscito a trasportare la gente nel tuo mondo e dico qualcosa che comunque tendo a precisare quando insegno anche a scuola nelle poche volte in cui diciamo ho tempo la tecnica si impara anche sui libri fare le cose con tecnica non ha bisogno di un mentore non c'è bisogno del famoso maestro si basta studiare lo studi lo studi chi è portato per studiare sicuramente riesce a fare le cose con tecnica ma una buona foto non è sempre una buona foto fatta con tecnica magari certe volte la tecnica in quella foto non esiste o non ha una regola precisa perché chi l'ha scattata sa bene come infrangerla tanto da creare la stessa emozione e la stessa cosa è un po' con l'approccio musicale secondo me la tecnica è ben distinta dal talento cioè ci sono persone talentuose autodidatte che fanno delle cose fantastiche e questo diciamo quello è il consiglio che io do di riconoscere perché si sta perdendo questa figura la figura del maestro è bello che l'allievo veda il bene e il male di qualsiasi tipo di passione bene siamo arrivati alla fine di questo episodio di Lato B il primo episodio grazie ancora a Damiano per aver partecipato fate tesoro di questo consiglio che vi ha dato perché io la penso ugualmente quindi siamo d'accordissimo su questo lato e ci vediamo nel prossimo episodio con Aura ricordatevi inoltre di supportare il canale lasciando un like commentate facendomi sapere cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo detto in questo primo episodio iscrivetevi per i prossimi episodi ciao ciao